...e che non lo specca nel posto dove questa pappagallina mangia più spesso, in modo che, vedendo il proprio riflesso, creda che un altro individuo della stessa specie stia accanto a lei. E poi diventere un registratore con la sua voce in gira, in modo che, udendo un verso familiare, possa pensare che altri pappagalli stanno attorno. Ma i pappagalli sono animali estremamente intelligenti e non li si può imbrogliare con un trucco del genere. Ma chi?